Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni, ovvero non costano nulla, ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Allora, carissimi amici, grazie Oscar per la presentazione e per le parole dette. Questa sera cominciamo a meditare su un ciclo, diciamo così, di messaggi che sono raggruppati sotto il titolo Maria Madre Abbandonata. Sono messaggi chiaramente dal tenore alquanto, diciamo così, doloroso per certi aspetti drammatici che sono un po' accomunati dal leitmotiv seguente. La Madonna, in qualche modo, sappiamo che numerosissime sono le apparizioni che si sono susseguite, diciamo, dal 1830 in poi. Ovviamente, purtroppo, dobbiamo fare sempre attenzione perché quel maledetto del diavolo per creare disordine e scompiglio, che cosa fa? Purtroppo suscita anche apparizioni false, con l'intento solito che noi buttiamo l'acqua sporca col bambino, quindi se se ne scopre qualcuna pazza, purtroppo se ne è scoperta qualcuna pazza anche di recente, uno diventa sospettoso e quindi non ascolta più niente a nessuno. In questo caso vanifica il piano dell'intervento mariano di aiutarci. Io, prima di iniziare l'oltre scorso, già l'avevo detto, noi dobbiamo comprendere che questi sono i tempi di Maria, cioè non c'è mai stato nel corso della storia della Chiesa, io ho scritto anche un libro, ho studiato un pochino questa questione, no? Perché di apparizioni già ufficialmente riconosciute negli ultimi due secoli ce ne sono tante, ce ne sono, sono tante, cioè nel corso della storia non c'è mai stata una concentrazione così grande di apparizioni mariane come nella nostra. E' chiaro, questo lo dicevo anche sabato scorso, siamo stati in un posto che neanche io conoscevo, che è il santuario di Castelpetroso, dove ci sono state due apparizioni silenziose di Maria, molto tra l'altro, ne parlo perché sono molto console al tema di questa sera, perché lì la Madonna è apparsa come addolorata, quindi inginocchiata, con Gesù morto davanti, le mani rivolte verso Gesù morto e lo sguardo al cielo in atto di offerta e non ha detto neanche una parola, zero. E siamo nel 1888, quindi io anche nel libretto che ho scritto, che spero presto di poter revisionare e di rimettere in circolazione con altre apparizioni riconosciute, e facevo notare, non sono l'unica da aver notato, che il 1830, quindi le apparizioni di Rudy Bach, sono un po' in là a questa serie di apparizioni molto, molto frequenti, contemporanee, che devono farci pensare. Forci una domanda molto semplice, perché il cielo ha, mi si perdoni il termine, sguinzagliato Maria Santissima in questo tempo, e non l'ha fatto prima, anche i dogmi, gli ultimi due dogmi, e non sono finiti, sono uno del 1854 e uno del 1950, l'Immaculata Concessione e l'Assunzione. Perché? Perché questi sono i tempi di Satana. Cioè ci sarà anche una serie di messaggi, a cui dedicherò molta attenzione, sono più bello dell'altro, dove Maria parla di questa cosa, proprio a schio, e molto ampiamente, perché la Madonna è l'incaricata dal cielo, di schiacciargli la testa, cioè il Proto Vangelo, Ipsa Conte, Red Caputum, era e sempre sarà la caratteristica proprio di Maria. Cioè Maria esiste per essere certamente la madre di Dio, certamente, ma anche il riscatto della razza umana, la combattente, la vincitrice del nemico. È per questo che è così importante ascoltarne i richiami, certamente come ho dovuto discernimento, io non sarei qui se non pensassi, anche se schio, come sapete, non è un'apparizione ancora ufficialmente riconosciuta, però la testa ce la possiamo avere, insomma, noi un giudizio personale ce lo possiamo fare, evidentemente, salvo sempre, smentite da parti autorevoli, non sarei qui se non pensassi che queste cose siano autentiche, perché per quel poco che ho potuto già studiarne, verificarne, l'ho già detto, sia, cioè i criteri di scendimento sono il tenore dei messaggi, il contenuto dei messaggi, il contesto, le circostanze, eventuali segni che siano stati dati, la personalità del veggente, la vita morale del veggente, il tipo di realtà, l'assenza di lucro intorno alle apparizioni, eccetera, eccetera, quindi per quanto ho potuto conoscere, questi segnali ci sono tutti quanti, quindi poi c'è anche, come dire, la testimonianza delle persone, sono stato due o tre volte a Schio e ne ho avuto un'ottima impressione, sia dal posto, sia dal luogo, sia dagli ambienti, sia anche dalle persone, quindi per questo che sto un pochino accettato molto volentieri, Oscar l'ho conosciuto l'ultima volta che siamo andati per il grangio parrocchiale, l'ho conosciuto personalmente, ma ero già stato almeno altre due o tre volte a Schio, anche grazie all'amicizia, insomma non è un mistero del sacerdote che è un caro amico, Don Federico Mortoli, che è notoriamente un personaggio noto a Schio, ha maturato la vocazione anche in quel contesto, quindi c'è stato anche un pochino questo, no? Bene, scusate, il preambolo che oggi ho fatto, un po' come Oscar la volta scorsa, ho fatto il preambolo un po' troppo lungo, però mi sembrava doveroso, il tema di questa sera è Maria Madre Abbandonata, ci sono una serie di messaggi, pensate che per due volte consecutive, il 6 aprile dell'85 e il 18 aprile dell'85, questo che dice, io sono la madre abbandonata, testuali, la madre abbandonata, 85, è chiaro che io che ho studiato un po', se qualche sacerdote insomma ascolterà queste riflessioni, sa quello che dico, c'è stato un processo negli ultimi anni di progressiva come dire, minimizzazione mariana, adesso non voglio entrare in argomenti insomma un po' troppo complicati da un punto di vista teologico, no? Però certamente il tentativo di varie scuole mariologiche contemporanee sono indubbiamente, vanno indubbiamente nel senso di minimizzare un pochino la figura di Maria Santissima. Io adesso non mi trovo un po' in difficoltà, non vorrei fare nomi e cognomi che non è nel mio stile, quindi parlo semplicemente di idee, di cose che sono state dette, ma non si può andare a dire che Maria era nostra sorella, una donna come tutte, che ha avuto una vita normale, che era un'adolescente, insomma io spero che non si capisca, però qualcuno le ha scritte queste cose, io non faccio il nome per dovere di carità, chi lo sa certamente capisce, ma non si può andare a dire in giro di Maria Santissima che era un'adolescente, 14enne, stava al mare in Bermuda e la prima volta che ho visto San Giuseppe mi si è infuocato il cuore, insomma, cioè non si può parlare di Maria Santissima in questi termini, certo non è che si chiara che, non si ne può neanche fare un quadro, come dire, un quadro iconografico orientale come un essere disincarnato e completamente fuori del mondo, però non si può scendere a queste bassezze, cioè stiamo parlando della madre di Dio, stiamo parlando di una creatura che è certamente tutta umana come noi, ma è primo concepita senza peccato originale, secondo è la piena di grazia, cioè è il ricettacolo di tutte quante le perfezioni, il capolavoro dell'Altissimo, per cui tradizionalmente parlando Maria è sempre stata tenuta come dire in palmo di mano dalla Chiesa e anche dal culto ufficiale e dalla liturgia, della Chiesa. Quindi sappiamo bene che il tentativo di ridurre l'importanza della Madonna e dei Santi viene da un certo ambiente e a volte si è assistito insomma a me è parso che si sia caduti nella tentazione che con la scusa del cosiddetto dialogo ecumenico quindi per non offendere, per non urtare chi evidentemente ha posizioni ben note però ci si sia un pochino prestati a questo gioco di eccessiva umanizzazione di Maria che non è certamente una cosa buona. la Madonna deve essere sempre concepita come dal versante creaturale però la mariologia per essere chiari preconciliare che la chiamavano dispergiativamente la mariologia dei privilegi o Cristo tipica lo vedeva la Madonna principalmente in relazione a Cristo quindi accentuava le sue grandezze le sue eccellenze i suoi privilegi che ce ne fanno comprendere la sua relazione stretta con Cristo e quindi la sua importanza nella funzione di mediazione di grazia eccetera la maternità divina la regina perpetua eccetera la mariologia moderna ho fatto la desi dottorale su queste cose quindi scusatemi se mi dilungo un po' è come dire polarizzata non su Cristo ma sulla Chiesa quindi cerca di capire la Madonna in relazione alla sua relazione con la Chiesa quindi la cosiddetta mariologia ecclesiotipica che certamente ha il suo la sua importanza e il suo fondamento perché certamente Maria lo dice da Sant'Ambrogio è immagine tipo e modello perfetto della Chiesa cioè ciò che la Chiesa deve essere Maria già è ecco il concilio di Gama II lo definisce membro eminentissimo ed eccellente della Chiesa è chiaro che nella teologia corpo di Cristo capo e corpo la Madonna certamente non è uguale a Cristo evidentemente perché è una pura creatura però San Bernardo diceva sì è un membro ma è un membro del tutto peculiare San Bernardo si era inventato con la sua genialità nel corpo di Cristo la Madonna è il collo della Chiesa cioè perché il collo non è nella testa ma non è neanche un membro qualunque perché il collo ha la funzione di raccordare la testa al corpo se non ho il collo se mi tagliano la testa è finita la vita perché tutti quanti i nervi che partono dal cervello arrivano a tutte quante le membra del corpo attraverso il collo questo non è un mistero questo qui quindi a tempo stesso anche il sangue arriva al cervello attraverso il collo quindi c'è proprio una funzione è un'immagine stupenda questa qui che va un pochino recuperata la Madonna si definisce abbandonata e mi chiedo perché abbandonata non è che si abbandona la Madonna così perché non c'è niente da fare perché è chiaro che minimizza oggi minimizza domani minimizza dopo domani vabbè se questo tutto sommato era caduta come me non è che così tanto importante negli anni 60-70 ci fu qualche teologo anche qui non faccio sempre nomi per ragione di carità ma chissà questa cosa capirà chi è stato che quasi sbeffeggiò alcune cose che la Madonna disse a Fatima circa per esempio l'importanza del Santo Rosario la Madonna Fatima disse testuali parole nell'apparizione certamente posto successiva con il Rosario in mano non c'è situazione problema personale familiare sociale ecclesiale politica ed economico nazionale internazionali compresi guerri cataclismi catastrofi naturali che non possa essere risolto ha detto queste cose il commento di un notissimo teologo che ha influenzato un poco anche la teologia conciliare post conciliare dice se mostra maddaletta ste cose che con rosario risolvi ste cose testuali parole campacavallo capito di campacavallo quindi è evidente insomma no si prego è venuto in mente finché lei parlava di questo argomento un messaggio che non è stato inserito in questo macro argomento ma probabilmente lo troveremo più in là è proprio del primo anno delle apparizioni la madonna oltre appunto a dire io sono la madre abbandonata ha detto un messaggio che io ricordavo molto bene e l'ho individuato vi leggo tre righe prego sono proprio cadono a pennello quello che lei ha detto sul svilimento del ruolo di Maria diceva Maria un giorno molto vicino dovrai dire ai responsabili della chiesa che Gesù vuole la madre sua regina del mondo e regina dell'amore e non permetterà mai l'errore di allontanarla dagli altari si unisca alla chiesa però senza cedere a ricatti o a compromessi eravamo uno dei temi caldi dell'epoca era proprio il dialogo interreligioso il mondo vuole Maria e Maria salverà il mondo se ascolterete e vi convertirete in piena sintonia con quello che ha detto ottimo bene quindi detto questo poi nel questi sono in ordine cronologico qui mi sembrano il 27 settembre ritorna ancora io sono la madre abbandonata ma io vi voglio bene e poi comincia a introdurre il tema speculare io e il padre non vi abbandoneremo e nel messaggio seguente io non vi abbandonerò anche questo è un tema molto molto importante molto molto importante perché c'è molta gente che ancora fa dicendo in giro quando succede qualche guai ah ma Dio mi ha abbandonato ma Dio non abbandona nessuno anzi purtroppo e questo romodonna lo sa molto bene chi ha vissuto la terrificante esperienza dell'abbandono misteriosa dell'abbandono del padre di certo non siamo stati noi ma sono stati proprio purtroppo e questo lo dicono anche diverse fonti mistiche oltre che i Vangeli Gesù in croce la terza frase che dice Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato certo è l'inizio del Salmo 21 ma c'è stato certamente gli scritti di Maria Valtorta io so che si può parlare in questa sede perché so che Radio Colbe manda trasmissione su Maria Valtorta c'è stato un fenomeno misteriosissimo cioè la seconda persona della Santissima Deità indivisibile dal padre però nella sua umanità ha sentito dell'assenza del padre che è una cosa dicono anche alcuni teologici così terrificante che se la dovessimo sentire noi non ci resisteremmo nemmeno un istante moriremmo all'istante di dolore solo per questa cosa qui e la stessa cosa è successa alla Madonna che è andata avanti per pura fede ci sono dei passaggi drammatici degli scritti di Maria Valtorta quando Gesù muore o quando c'è stata la sepoltura che sono impressionanti ha conservato la fede ma il dolore ha toccato dei vertici veramente allucinanti quindi non è Dio che abbandona noi cioè nessun essere umano potrebbe sentire l'abbandono di Dio dicono qualcuno che neanche all'inferno c'è l'abbandono assoluto di Dio anche se c'è il rigore terrificante della sua giustizia perché è una cosa allucinante quindi dire Dio mi ha abbandonato insomma è una cosa veramente è una frase oltre che blasfema proprio completamente senza 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 fondamento perché non è vero siamo noi cioè che abbandoniamo il cielo non loro che abbandonano noi e vedete la risposta molto 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 bella la risposta al nostro abbandono è l'amore e la promessa di non abbandonarci io è il padre e io stesso non vi abbandonerò no ecco sì questi sarebbero tutti quanti molto uno più belle dell'altro ci sono dei messaggi molto molto brevi diciamo quasi apodittici no ma molto significativi li leggo soltanto senza commentarli anche perché sono molto chiari prima di arrivare al primo messaggio un po più corposo per esempio sono ancora dove sta qui sono ancora molti in quelli che non credono a maria 11 febrile 85 troppi sono i cuori di pietra 14 dicembre 85 non giocate con quello che continuamente vi dico 13 gennaio 86 primo messaggio un po più corposo che volevo commentare del 27 aprile dell'87 che dice così quante cose vengo a dirvi figli cari ma non posso ancora lasciarvi perché voi vi perdereste qual è il motivo che continuamente vi porti in ogni luogo per ascoltare tante voci tante voci molti ho chiamato perché parlassero e non parlano molti vostri fratelli dicono cose che non sono verità fidatevi di Maria fidatevi che so condurvi sulla giusta via non dubitate non accettate più voci che non sono verità questo è un altro messaggio un po' drammatico che fa anche capire il motivo per cui sì certo la Madonna è scesa in campo per usare questa espressione perché questi sono i tempi di Satana e quindi ci deve essere l'avversaria dell'avversario collegalo che lo fa corre che lo mette in riga però c'è anche un altro motivo che qui lo dice ho chiamato perché parlassero ma non parlano c'è chi deve parlare che sta zitto non parla non solo altri alcuni stanno zitti e altri che farebbero meglio a stasse zitti perché dicono cose che non sono verità questo veniva detto nell'87 però insomma penso che non è che oggi vediamo questo messaggio vabbè meno male che adesso questo appartiene al passato adesso è finito no non è finito qui c'è sapete no il grande San Gregorio Magno ma c'è tutto quanto il leitmotiv della patristica sui cani muti incapaci di abbagliare prendendo spunto chiaramente dalle pagine della sagra scrittura non parlare è un'omissione grave cioè quando si deve parlare cioè e se questo comporta come dire dei rischi dei pericoli l'impopolarità come dire la persecuzione cioè non essere come dire gradito o qualunque cosa sia si parla lo stesso noi non possiamo e non dobbiamo tacere specialmente quando è in gioco la verità non possiamo stare in una situazione di come dire quasi che fossimo complessati nei confronti adesso devo stare attento se questa cosa la posso dire non la posso dire perché se no poi che succede cioè allora se si tratta di una cosa secondaria marginale come dire disciplinare se vogliamo vabbè ma se sta se c'è in gioco la verità con la V maiuscola cioè la fede e la morale non si può mica tacere non si può e poi c'è e poi c'è il problema quando la Madonna e di cosa sta parlando con certezza non lo possiamo sapere ma è chiaro che quello che dice Padre Pio molti anni prima l'ho postato un po' di tempo fa sul canale e disse delle cose abbastanza forti cioè quando verranno i tempi in cui cominceranno alzasse tanti galli a cantare che peraltro non non si fa mai giorno che capite no non ascoltate più nessuno ricordatevi le cose che ci hanno gli insegnamenti dei nostri padri e turate le orecchie dinanzi a tutto il resto la Madonna questo lo scrive anche San Luigi Maria è venerata come sterminio e rovina del demonio di tutte quante le desie San Luigi scrive nel trattato della devoluzione chi si consacra alla Madonna può stare sicuro che certo non è che diventa ipso facto infallibile o impeccabile quindi non è che non può essere ingannato o non può andare appresso a qualche stupidaggine perché siamo tutti quanti mortali e esseri umani questo può succedere ma se la sua devoluzione a Maria è sincera se il suo amore a Maria è sincero se anche come dire la sua formazione mariana autentica è sincera la Madonna non permetterà che rimanga nell'errore inconsapevole se ci sta lo tirerà fuori 100% perché è il suo compito io so condurvi sulla giusta via non dubitate ecco non so se scusate ci sono proprio dei collegamenti molto importanti con altri messaggi che mi vengono proprio alla mente c'è una breve frase due righe di un messaggio sempre del primo anno che dice a proposito di questo tema parlate parlate anche per coloro che dovrebbero parlare ma non parlano vedono ma dicono di non vedere io vi dico che la responsabilità è grande ascoltatemi e ricordate che Dio è giusto allora io devo vi permetto di aggiungere che vedete studiando un pochino questi messaggi si vedrà una cosa fondamentale che sempre senza fare nomi e senza dire niente perché facciamo così cominciamo a stimolare un pochino gli ascoltatori che facciano funzionare il cervello e ci arrivino da soli le cose allora un'apparizione mariana sospetta diciamo così quindi che si mettono un punto interrogativo diciamo si muove tra due estremi o l'eccessivo catastrofismo circa la situazione attuale quindi messaggi che te fanno solo venire in angoscia che finisce mai anche come dire alludendo facendo riferimento a problemi in realtà che adesso sono tali e attuali ok ma sono tutti così però c'è anche l'estremo opposto cioè messaggi mariani che sono completamente fuori contesto cioè sembra che che fa tutto bene e quindi cioè si parla sempre in termini un pochino vaghi dei soliti temi no vabbè che Dio è buono che Dio amore che Dio misericordia che potete amarvi gli uni gli altri queste cose qui no che le sappiamo ok allora cioè un'apparizione come dire autentica che non è che la Madonna scende dal cielo così perché c'è niente da fare allora da un lato si cala nel contesto dice la verità chiaramente senza mancare alla carità quindi dice le cose ma in modo che noi possiamo capire però al tempo stesso ci sono anche tutta una serie di messaggi che incoraggiano che rincuorano quindi che da un lato denunciano una situazione ma dall'altro ti mostrano anche già presente la via d'uscita che già c'è la via d'uscita da un lato il fatto che chi la vive in unione con Gesù e con Maria ne esce da questa situazione quindi non sarà leso dall'altro che comunque la vittoria e il trionfo sta dalla parte nostra quindi questo questo deve essere deve essere chiaro no? da quel poco che ho potuto conoscere verificare anche di questi messaggi queste cose ci sono no? ok vado al prossimo anche qui la Madonna mi deve perdonare magari perché completarli tutti penso che ci possiamo impiegare i prossimi dieci anni insomma quindi bisogna fare necessariamente qualche piccola scelta compatibilmente anche con i tempi no? faccio un jump al 16 settembre dell'87 che dice così seguitemi in questo cammino che abbiamo iniziato insieme io vedo quante difficoltà incontrate figli miei superiamole insieme vi dono la certezza di essere nel giusto cammino sta passando troppo tempo per coloro che attendo ancora ad ascoltarmi non credono a voi perché non credono a me eppure molti tra loro sono anche consacrati beati voi figli miei se senza indugi vi abbandonerete a me allora qui ci sono diverse cose di cui parlare no? un conto è abbandonare Dio un conto è abbandonarsi a Dio un conto è abbandonare Maria un conto è abbandonarsi a Maria allora abbandonare Maria no ma abbandonarsi a Maria si quindi non è esattamente la stessa cosa no? beati voi figli miei se senza indugi vi abbandonerete a me questo abbandono è un atteggiamento anzitutto interiore cioè la nostra noi dobbiamo imparare io questo lo dico in continuazione anche quando faccio catechesi meditazione eccetera no? noi dobbiamo imparare a ad avere questo atteggiamento proprio di di abbandono che è un fatto interiore l'abbandono è proprio della della spiritualità della cosiddetta infanzia spirituale grande maestra di questo qui come tutti sanno è stata Santa Teresina no? c'è il Salmo 130 che dice il Signore non si orgoglisce il mio cuore non si leva con superbe il mio sguardo non vado in cerca di cose grandi superiore le mie forze io sono tranquillo e sereno come un bimbo in braccio a sua madre questo è un fatto eminentemente interiore non è che si può molto spiegare questo qui quindi l'immagine del bambino in braccio a sua madre lo esprime ma Maria Santissima è madre quindi nel senso che ha la possibilità di donarci tutto quello che un cuore di madre è capace di donare ma anche cioè noi non dobbiamo immaginarsi Maria come una donnetta così cioè Maria è una leonessa nel senso che è una madre è una madre buonissima con i suoi figli ma lei è terribile come schiere a vestiti spiegate questi nemici di Dio e della Chiesa quindi è un baluardo è una fonte di sicurezza di protezione no vi dono la certezza di essere nel giusto cammino anche questa è una cosa che Maria Santissima dà attraverso evidentemente una forma di persuasione interiore che trasmette alle anime dei suoi veri e autentici devoti ecco e purtroppo qui farò nota poi l'ultima notazione di coloro che che sono consacrati pure molti tra loro non sono anche consacrati qui il termine consacrato io mi sono chiesto poi non so se Oscar che ne sa più di me può aiutarmi consacrati per consacrati dentro l'ambito diciamo così della spiritualità mariana è un termine ambivalente perché sono i consacrati a Maria e però sono anche consacrati come dire il significato comune del termine consacrati che fa riferimento cioè a sacerdoti e religiosi chi saranno questi qua i consacrati a Maria o i sacerdoti religiosi perché sono gravi tutte e due la seconda magari è un pochino di più e purtroppo la seconda non è un mistero che anche in mezzo al clero e ai consacrati questo fenomeno di minimizzazione mariana come l'ho chiamata purtroppo c'è stato e quindi io non escluderei a priori che Maria Santissima si riferisca ai consacrati consacrati tradizionali io non so se Oscar vuole intervenire e dire qualcosa al riguardo sì normalmente Maria parla dei i miei consacrati o i consacrati a me quando usa questo termine normalmente fa riferimento alla seconda categoria cioè sembra proprio riferirsi ai sacerdoti ai religiosi ecco perché normalmente appunto parla di a me consacrati quando si fa riferimento proprio alla consacrazione o affidamento a lei ok allora un altro messaggio importante perché mette in luce un altro aspetto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare della nostra vita cristiana è questo figli miei vi chiedo di ascoltarmi 17 febbraio 88 è così Oscar lo trova e può seguirlo e stare sempre pronto per eventuali graditissime come ha fatto fino adesso come dire analisi comparate chiamiamola così figli miei vi chiedo di ascoltarmi vi invito a perseverare nella preghiera desidero che voi rimaniate costantemente in grazia Gesù chiede di rimanere con voi lasciate entrare in voi lo spirito che Dio vuole donare allora qui un concetto spirituale fondamentale tradizionalissimo insomma che la chiesa ha sempre raccomandato è la custodia della vita di grazia cioè la prima attenzione che noi dobbiamo avere sempre dovunque e comunque è la custodia della vita di grazia la custodia della vita di grazia per chi conosce un minimo di catechismo non è tanto difficile a dirla non dovrebbe essere neanche tanto difficile a farsi insomma per una persona che ci crede abbastanza come si custodisce la grazia la grazia si perde col peccato mortale la grazia diminuisce col peccato veniale la grazia non aumenta quando commettiamo un'imperfezione o una mancanza della virtù la grazia aumenta con la preghiera ben fatta aumenta molto aumenta comunque con la preghiera fatta come 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 riusciamo non aumenta quantomeno con la preghiera mal fatta e va gradualmente arretrando quando non si prega è impossibile d'accordo il pregare nella vita spirituale è come il mangiare nella vita reale io posso fare un giorno di digiuno un giorno senza preghiera non credo ma non è proprio possibile noi dobbiamo capire una cosa fondamentale importantissima qual è? che essendo figli di Adamo quindi essendo avendo nonostante che siamo battezzati le conseguenze del peccato originario noi ci abbiamo è come se noi avessimo un secchio bucato oppure uno stato di emorragia perpetua e però se il secchio è bucato se l'acqua finisce io muoio quindi non è un grosso buco è un forellino capito? è come se ci fosse una perdita per cui tu hai le ore contate se entro un certo periodo non riempi l'acqua finisce non c'è niente da fare purtroppo questa è una situazione perché dobbiamo pregare tutti i giorni? perché una persona che vuole come dire che ha spirato una vita spirituale da un certo periodo da una messa tutti i giorni la domenica basta no infatti la domenica cioè la messa la domenica non è il massimo della vita cristiana qualcuno pensi la messa la domenica abbiamo finito no andare a messa la domenica e confessarsi e comunicarsi a Pasqua i famosi precetti generati alla chiesa sono proprio il minimo sindacale cioè se scendi al di sotto di questi livelli tu mi ti arrepentaglio la salvezza eterna ma se tu vuoi essere tonico e attrezzato questo chiaramente non basta io personalmente questa è un'idea mia personale io specifico sempre quando parlo insomma di opinioni mie perché non voglio assolutamente presentare come dogmi di fede le mie idee personali in un tempo così delicato come quello attuale se non si se non si intensifica la vita sacramentale e di preghiera non si legge cioè essendo questi tempi di forte pressione di forte scatenamento satanica noi non possiamo pensare di poter fronteggiare una situazione di questo genere con un tipo di vita di grazia comune ordinario come potrebbe essere un tempo no faccio le preghiere la mattina e la sera faccio usione della cosa prima dei pasti vado a messa la domenica ogni tanto mi confesso magari a Pasqua faccio una confessione facciata come per finire in tempi di guerra non è come in tempi di pace questo va bene in tempi di pace quindi questo va bene in un contesto culturale caratterizzato dalla cosiddetta cristianità che non c'è più purtroppo e non in un contesto come attuale che stiamo in stato da sedio stiamo quindi siamo continuamente sotto pressione quando si sta sotto pressione è chiaro che l'asticella deve aumentare se non aumenta non c'hai le risorse semplicemente per poter sopravvivere in mezzo a questo a questo mare magnum no quindi perseverare nella preghiera rimanere costantemente in grazia ecco io mi permetto insomma di suggerire le indicazioni tradizionali date dai maestri di spirito per avere chiaramente adesso io vado diciamo su un livello alto quindi la confessione ogni otto giorni la messa e la comunione quotidiana ovviamente per chi può il rosario possibilmente intero almeno con le tre poste tradizionali quindi misteri gaudiosi dolorosi e gloriosi avete misteri luminosi introdotti al giorno pari secondo sono facoltativi se qualcuno per carità li vuole fare che Dio benedica non è un peccato però almeno questi in tre quarti d'ora più ovviamente le preghiere il mattino e la sera cioè l'eucaristia ben vissuta e ben celebrata il rosario è proprio la base della vita di di grazia insieme al sacramento della confessione queste tre cose no io ricordo di aver letto ero ancora seminarista ci sono anche delle altre tra l'altro qua dietro da qualche parte un testo dove in un esorcismo il diavolo aveva detto queste testuali parole ci dà memoria perché mi sono rimaste impresse no io non posso fare molti danni ecco questo non lo ricordo oppure un danno spiritualmente rilevante solo a una categoria di persone in questi tempi a chi partecipa alla santa messa quotidiana e fa la comunione quotidianamente e recita quotidianamente un rosario intero punto tra un paio di giorni è Santa Maria Osidiatrice la grande di cui era fortemente devoto San Giovanni Bosco penso che tutti conoscono il famoso sogno di San Giovanni Bosco della barca della chiesa sotto assedio i nemici eccetera eccetera che escono dal mare le colonne con una più grande dove c'era l'Eucaristia e l'altra più grande dove c'era ausidiatrice se ti agganci a queste due colonne la barca non affonda se non ti agganci a queste due colonne sei spacciato in questo tempo sicuramente bisogna intensificare il rapporto con l'Eucaristia ben vissuta e ben celebrata e la fedeltà e l'assiduità al Santo Rosario sempre il primo anno e mi rendo sempre più conto che i messaggi dei primissimi anni 85 ma soprattutto 86 erano magari molto più ridotti più scarni ma contenevano proprio il nucleo più importante del messaggio di Schio poi successivamente la Madonna ha ampliato ha ripetuto eccetera però nei primi anni ha dato i concetti a mio avviso più importanti e diceva ecco vi ricordo che era il periodo in cui cominciavamo a ritrovarsi eravamo in gruppo di collaboratori di Renato ci trovavamo e diceva Maria il 3 febbraio 86 cari figli vi ringrazio vedo che siete attenti e prudenti siete solo all'inizio di un grande lavoro quindi non disperdete le vostre forze e il vostro entusiasmo riunitevi spesso insieme come avete fatto ieri io sarò sempre in mezzo a voi quanto ecco qui la parte a mio avviso importante interessante per tutti quanto non vi è chiaro nei miei messaggi non deve essere per voi preoccupazione alcuna l'importante per voi è essere sempre in grazia quindi qui Maria ci fa comprendere che lo stato di grazia santificante ti consente di tenere quel canale aperto fra l'anima e Dio con cui Dio stesso e Maria ci comunicano ci danno quelle disposizioni quegli elementi che sono proprio vitali per la nostra vita spirituale andiamo verso la conclusione vorrei un attimo provare a fare gli ultimi tre vediamo un po' perché il primo fa un po' storia a parte gli altri due invece sono un po' connessi tra di loro 21 settembre 88 miei cari figli io sto operando nell'intimo delle vostre anime con miracoli più grandi dei miracoli del corpo chi mi segue segue con me la croce di Gesù chi persevererà per mezzo della croce avrà la salvezza fidatevi del mio aiuto io vi difenderò dal veleno dell'ateismo e dell'eresia e vi farò splendenti davanti al mondo voi sarete con me ogni giorno della vostra vita trasmettitore di amore allora numero uno i miracoli nelle anime sono più grandi dei miracoli del corpo questa è dottrina su un'anime i padri della chiesa hanno scritto veramente delle cose spettacolari sotto questo punto di vista anche con tutte quante le loro letture spirituali dei miracoli materiali operati da Gesù no? seconda cosa chi mi segue segue con me la croce di Gesù sapete che uno dei più grandi santi mariani forse il numero uno quindi il punto di riferimento normativo per tutta la spiritualità mariana che è il grande San Luigi Maria Grignon da Monfort dove per grazia di Dio perdonatemi questa piccola digressione personale avrò la gioia di poter tornare quest'estate sulla sua tomba ci sono già stato a venerarlo a venerarlo e a ringraziarlo per tutto quello che ha insegnato che mi ha insegnato che tutto quello che ho imparato da Maria Santissima io lo devo a lui cioè me l'incontro con la spiritualità con la personalità la spiritualità e la dottrina di San Luigi di Monfort sta assolutamente decisivo io ho capito benissimo benissimo credo abbastanza bene la grandezza di Maria imparandolo da lui ma lui aveva io ce l'ho qui davanti lui aveva girava sempre con questa madonnina qui questa proprio originale sua che teneva sopra un bastone a forma di croce in tutte e quante le missioni perché lui due secoli prima 1713 beh un secolo e mezzo prima dell'apparizione di Rudebach aveva capito una cosa fondamentale cioè che c'è un legame inscindibile oltre che tra Maria e Gesù ma tra Maria e la croce avete visto il ritro della medaglia miracolosa è un segno che io proprio lo trovate ce l'ho sulle pianete ce l'ho sul mio stemma se è totale ce l'ho sulle porte di casa il ritro della medaglia miracolosa se l'ha inventato Maria è l'unico che io sappia monogramma inventato in persona dalla madonna quindi la M con intersecata la I e con sopra la croce e intorno le 12 stelle sotto i cuori di Gesù e di Maria no è un segno imprescindibile che fa anche pensare cioè come la croce è proprio elemento costitutivo della vita cristiana e della vita mariana tant'è vero che San Luigi non ha scritto soltanto il trattato della vera devozione al segreto di Maria ma un'altra opera importantissima credo poco conosciuta ma che deve essere assolutamente conosciuta è la lettera agli amici della croce che è stupenda bellissima quindi la vita mariana è una vita felicemente crocifissa perché chi mi segue segue con me la croce di Gesù e chi persevererà per mezzo della croce va a salvezza senza la croce non c'è nessuna possibilità di raggiungere la salvezza questo è un punto fondamentale e poi io vi difenderò dai due grandi veleni del nostro tempo che sono l'ateismo e l'eresia l'eresia purtroppo in giro ce ne stanno a go go e ci sono tante eresie quella meno grave è l'eresia materiale cioè quando uno dice stupidaggini senza rendersi conto di quello che dice come dice Gesù in croce padre perdone perché non sanno quello che fanno lo si può traslitterare non sanno quello che dicono ma la cosa grave è che purtroppo c'è sta gente che spara eresie e non può invocare non sa quello che dico perché lo deve sapere quello che dice perché una persona che ha l'ordine sacro o è stato ordinato o che ha studiato non può sparare eresie grosse quanto una casa e purtroppo questo è un altro dramma del nostro tempo continuamente insomma purtroppo denunciato e segnalato da fedeli che poi si scandalizzano io mi sento tutti i giorni tra mail interventi in diretto cose di questo genere veramente delle situazioni veramente molto molto tristi no e Maria Santissima è un baluardo una difesa da questo gli ultimi due invece fanno riferimento alla dimensione un pochino della vita cristiana come milizia che è un altro aspetto a mio avviso anche qui un pochino oggi trascurato il padre mi volle condottiera perché io conduco a lui ciò che a lui appartiene ogni uomo la Madonna è una condottiera sapete condottiera è il femminile del maschile in latino in latino è dux capito cioè condottiera vuol dire che si prende le sue responsabilità e il condottiero è il duce è colui che sta a capo di un esercito e infatti questo è il messaggio del 2 novembre dell'88 li leggo insieme il 18 dicembre dell'88 quindi un mese e mezzo dopo dice figli cari voi desiderate sentirmi state chiedendo che venga in mezzo a voi voi fate parte delle mie schiere quindi c'è una condottiera e ci sono delle schiere sono le schiere di Maria è l'esercito di Maria chiamiamolo come come ci pare questi chiaramente non è che sono militari comuni non hanno armi materiali non ammazzano nessuno che vanno a fare robe di questo genere ma combattono quale battaglia quella di di cui parla San Paolo la nostra lotta non è contro creatura di sangue e di carne ma contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra quindi e la grande battaglia oggi a luce di quello che abbiamo ascoltato è la battaglia contro l'ateismo e contro l'eresia qui c'è un mondo che ha completamente estromesso nostro signore dai propri orizzonti culturali e per cui è chiaro che noi oggi stiamo in un contesto sociale e culturale per certi aspetti analogo a quello che c'era all'inizio del cristianesimo cioè il paganesimo ma per altri aspetti più gravi perché la situazione dell'uomo contemporaneo mentre i pagani avevano come dire sono pagani quindi non sanno che ne sanno insomma questi vivono con mezzi animaletti perché c'hanno altro anche se magari i romani erano ottimi giuristi ottimi ingegneri e ottimi politici i greci erano ottimi filosofi però erano sempre pagani erano quindi invece noi no perché la nostra società è figlia non del paganesimo ma dell'apostasia che è una cosa più grave cioè noi lo conoscevamo il cristianesimo ci siamo vissuti per secoli quasi per millenni dentro il contesto cristiano e a un certo punto abbiamo detto no qui ci siamo stufati adesso cominciamo a farci la vita come ci pare buttiamo Dio dalla finestra e ricostruiamo un mondo a nostra immagine e somiglianza perché questo è questo processo che è cominciato con l'illuminismo e con la rivoluzione francese ma oggi è tuttora in atto non è che è finito e lo vediamo in continuazione quindi cioè questo status quo esige già la vita cristiana è sempre una milizia ma questo lo esige doppiamente perché noi non possiamo farci intimidire cioè bisogna avere il coraggio di combattere la buona battaglia della fede che è una battaglia pacifica ma che è anche una battaglia che richiede coraggio perché assumere oggi posizioni o o dire cose che non sono condivise insomma ha delle conseguenze grosse e per poterle affrontare ci vuole il coraggio e questa è certamente una dimensione diciamo così tra virgolette militare non mi viene il termine insomma della della vita cristiana e dell'azione mariana quindi la Madonna vuole le persone che le siano fedeli e che il suo nome lasciandosi condurre da lei affrontino questa situazione come dire con coraggio senza porsi in una condizione come dire di complesso o di minorità io personalmente questa è un'altra cosa mia che che mi fa molto male cioè io a volte anche quando vedo certe posizioni certi discorsi cioè ma mi sembra quasi che che noi cristiani siamo diventati complessati cioè ci sentiamo in uno stato di minorità rispetto a a questa gente insomma ai mondani perché questi sono questi sono le cose sono laici c'hanno la scienza c'hanno questo e quell'altro invece noi siamo ancora quindi devi sempre un po' un po' capito un po' sentirti un po' quindi devi chiedere quasi il permesso per di mezza parola anzi la devi dire in un certo modo che così nessuno si urta cioè per carità non è come si mette a fare cose strane insomma o pazzi o fanatismi no però cioè senza che questo significhi superbia ma non è che noi dobbiamo sentirsi stato di soggezione o minorità rispetto al mondo o al mondo laico casomai è il contrario cioè che poi io nel propormi non lo faccio con alte righe non possiamo farlo in questo modo con superbia con supponenza questo è chiaro questo qui ma anche cioè senza nessun complesso cioè io la verità la dico e se tu poi vuoi fare la scelta di ridicolizzare quello che ho detto falla io non ho paura però di questo eh in questo senso credo che ecco però vedo che sono passato un bel po' di tempo quindi riuscierei la parola a Oscar e per quello che riguarda me metterei un bel punto che se no diventa troppo pesante credo sì mi pare che stasera anche stasera Don Leonardo ecco siamo stati gettati dei semi importanti nel terreno del nostro cammino spirituale sono tutti regali che il cielo ci ha fatto e quindi credo siano utili al nostro cammino e la speranza sia che i nostri amici che ci hanno seguiti e che ci seguiranno ecco possano trarre un giovamento spirituale per la loro vita e per il loro cammino che è lo solo scopo per cui facciamo queste trasmissioni quindi non ci resta che salutare tutti quelli che ci appunto ci hanno seguiti questa sera e coloro che invece si collegheranno con i nostri con i suoi social Don Leonardo indifferita e ecco invocando su di lei la benedizione di Maria regina dell'amore madre ecclesi e madre sacerdotalis ecco chiediamo a Maria che la voglia benedire proteggere e valorizzare il suo postolato ricchendolo dei suoi infiniti meriti ecco quindi se vuole concludere Don Leonardo con la benedizione di una santa notte a tutti e a Dio piacendo un arrivederci un risentirci alla prossima occasione bene Dominus Fobiscus ecco Spiritu Tuo intercessione Beatissime Virginis Maria Regine Amoris Benedicat Vosso Nibonesteus Pater et Filio Spiritus Santus Amen Ave Maria Santa Notte Santa Notte